amici di fano tv buonasera e bentrovati in questo appuntamento parleremo di bionde ma non solo di bionde avete capito bene che protagoniste sono le figlie del lupolo si parla della birra d'augusto 2022 dalla 12 alla 16 agosto a fano grazie all'associazione culturale fortuna dea e allora do il benvenuto ai nostri ospiti alessandro e andrea buonasera ragazzi buonasera allora parte questo appuntamento tanto atteso con tantissime novità potrei dare i numeri diversi 12 birrifici 7 food truck ma ci sono tante tante novità che adesso insomma andremo ad escrivere al nostro pubblico a casa il quando l'abbiamo detto dal 12 al 16 agosto dove allora intanto partiamo dalla prima novità che è infatti il dove e quest'anno non saremo più al pincio ma saremo in via 24 maggio e il parco biancheria morelli abbiamo deciso quest'anno di cambiare la location per valorizzare con il nostro evento anche un altro punto nevralgico della città che è la zona della rocca malatestiana e infatti quest'anno come cornice quindi come sfondo avremo la rocca e sarà in un altro punto della città ma ugualmente entusiasmante insomma bene allora le coordinate le abbiamo io direi di parlare dell'indiscussa protagonista la birra artigianale di qualità abbiamo detto ben 12 birrifici esatto quest'anno abbiamo ben 12 birrifici perché siamo alla dodicesima edizione quindi abbiamo fortemente voluto 12 birrifici di questi 12 birrifici dobbiamo focalizzare il fatto che ne abbiamo otto della nostra regione di cui sette della provincia quindi questo è molto importante perché abbiamo voluto valorizzare le nostre aziende marchigiane le nostre aziende della provincia di peserurbino e con questo sostegno pensiamo e vogliamo far conoscere il mondo della birra e anche il nostro mondo della birra che non è solo quello al di fuori ma è anche quello territoriale assolutamente sì anche perché dopo due anni diciamo di calma piatta mettiamola così c'è una grande voglia di rimettersi in gioco e sicuramente la birra d'augusto è una bella vetrina per questi birrifici che io direi di citare volendo sì allora abbiamo il birrificio dei castelli che è di arcevia sì poi abbiamo il birrificio angeloni che è dalla provincia di peserurbino birrificio oltremondo sempre della provincia birrificio del catria la castellana birrificio collesi birrificio 61 100 gli alchis poi abbiamo basseria alpina la granda birrificio noise e birrificio malte bassi gli ultimi due sono due novità insieme al birrificio angeloni che ci hanno fatto il piacere e l'assoluto come possiamo dire onore di avere nella nostra festa possiamo anche svelare qualche novità proprio in fatto di birra ci sarà qualche birra particolare qualcosa lo possiamo dire al pubblico assolutamente sì avremo una grossa novità ed è una novità a livello nazionale la novità è che abbiamo non pensiamo solo ai noi ai nostri amici e agli umani sì ma abbiamo pensato assieme a un'azienda che si chiama da pian 1904 a una birra per i cani a assoluta novità di quest'anno è la birra per i cani ok perché abbiamo pensato che i nostri amici che vengono a trovarci alla festa possono portare il loro animale e con loro sorseggiare una birra va specificato che la birra per i cani è zero alcol certo zero luppolo e quindi assolutamente innocua per gli animali anzi è proprio stata prodotta da un'azienda del nostro territorio di San Benedetto del Tronto che si chiama Fidovet ed è proprio un'azienda che produce mangini per animali ok quindi tutto rigorosamente controllato e diamo delle cose insomma giuste ed equilibrate ai nostri amici a quattro zampe che potranno godersi l'evento ci piace molto questa cosa tra le novità che mi hanno colpito ci sono questi due cooking show previsti oltre ad altri due momenti di approfondimento esatto avremo quattro momenti quattro spazi di cultura sono due di approfondimento proprio culturale vero della del termine e due cooking show due cooking show che è la vera novità nell'ambito culinario di quest'anno sono a cura dello chef antonio bedini che è anche delegato regionale per arci l'associazione professionale cuochi italiani e che ci illustrerà come cucinare con la birra quindi farà sei pietanze in due giorni quindi tre in una e tre in un'altra tutte cucinate con una birra chiara una birra scura e una birra ambrata farà sia carne che pesce che verdure quindi diciamo che mentre lo cucinerà lo farà con noi tutto questo dobbiamo ringraziare confesercenti nelle persone di Stefano Mirisola e Matteo Radicchi che è il direttore di confesercenti che hanno ci hanno sostenuto e hanno fortemente voluto che noi facessimo questo cooking show per valorizzare altrettanto le materie del nostro territorio e un altro partner importante per questo momento e per tutta la manifestazione è il birrificio Renton che abbiamo in casa che ci darà le birre per cucinare quindi insieme poi alla cucinata dello chef ci sarà la degustazione delle birre che accompagneranno lo spettacolo insomma. Tra l'altro la gastronomia sta prendendo proprio piede sta diventando proprio una fetta culturale una forma mentis da parte anche del pubblico per partecipare a questi cooking show comunque per assistere è necessaria una prenotazione? Sì è necessaria una prenotazione il numero di telefono lo trovate sui nostri social e il costo è di 15 euro a degustazione quindi a serata spettacolo però ve lo consigliamo perché è una cosa innovativa nel genere ed è una cosa mai provata e per noi è un'assoluta novità che vogliamo fortemente poi allargare anche il prossimo anno. Ok allora cooking show approfondimenti culturali che riguardano comunque la birra la storia della birra e poi la musica Andrea. Leghiamo il tutto quanto con con la musica insomma sia la birra che questi approfondimenti abbiamo voluto come tutti gli anni legare il tutto con della musica prettamente live quindi ci saranno dieci band che suoneranno appunto il live lì alla festa divise in cinque giorni quindi due band ogni giorno la prima band che suona nell'ora di pasto insomma dalle 19 in poi fino alle 21 poi il tempo di cambiare le strumentazioni e si parte con la seconda band e abbiamo appunto tutte band locali e con le quali con molte abbiamo collaborato anche gli scorsi anni e alcuni invece sono nuove e adesso magari le... Assolutamente sì le presentiamo e diciamo anche al pubblico a casa che abbracceranno diversi generi musicali un po' per soddisfare le esigenze di tutti. Esattamente infatti iniziamo con un duo acustico, i 2A cioè iniziamo appunto il 12 con i 2A e seguiranno poi i Catch the Giant alle 22 che sono una rock band abbastanza conosciuta a livello locale e il giorno dopo avremo i The Python che sono una cover band e la Zio Rufus Band che è la cover band di Zucchero Fornaciari. Poi proseguiamo il giorno dopo con i Rinuceronti anche questi una rock band e i Glam e il giorno dopo avremo la culo band e la Vaga Band che sono delle cover band che fanno da anni 60 fino ai giorni nostri insomma la seconda poi magari conosciuta anche per il suo impegno sociale la Vaga Band e in ultimo all'ultimo giorno avremo un trio acustico Nico e Nelly e finiamo con una band diciamo anni 50 swing che forse già conoscete i The Nipples fanno questo genere molto brillante insomma. Sicuramente non è stato semplice no fare la selezione di questi gruppi musicali ma io che sono lungimirante direi di lanciare un appello anche per la prossima edizione per chi volesse magari esibirsi può prendere già contatto con voi no? Ci potete segnalare ci potete scrivere insomma nei nostri social noi prenderemo in considerazione la vostra richiesta per il prossimo anno le collaborazioni ne vogliamo fare altrettante se non di più insomma. Bene Alessandro poi come proseguirà questa questa nostra? Come proseguirà? Siamo partiti con il bere ma dobbiamo parlare anche di mangiare assolutamente anche di cibo. Sette food truck con delle pietanze meravigliose multi etniche tra l'altro. Allora vogliamo partire dal fatto che cinque saranno nostre assolutamente nazionali quindi parliamo di piadina con i prodotti nostri del del territorio parliamo di toscana avremo il nostro toscano amico maurizio che verrà solo dal 14 al 16 proprio che prima altri appuntamenti e lui ci porterà la fiorentina poi avremo la puglia con le bombette pugliesi gli rosticini abruzzesi e la nostra frittoria che è della nostra del nostro territorio di Fano poi avremo due novità la prima novità è salata la seconda è dolce partiamo dalla dolce e sono i ciurros che quest'anno abbiamo abbiamo voluto portare i ciurros che è una novità anche per le nostre zone non sono mai sentite e ci siamo messi in contatto ed è subito stata entusiasta di venire alla nostra festa e l'altro è la carne di angus e avremo dei dei panini con la carne di angus importante direi qualcosa di importante da abbinare con altrettante assolutamente sì assolutamente sì bene la mole di lavoro che si cela dietro la preparazione di questo evento neanche a dirla però immagino che ci siano dei ringraziamenti sentiti doverosi partecipati assolutamente sì innanzitutto ringraziamo il comune di Fano nell'assessorato al turismo ma comunque tutto il comune che con cui sono quasi un anno che ormai ci confrontiamo e cerchiamo di trovare una sinergia unica cosa importante perché una manifestazione del genere ha bisogno di una sinergia molto importante ringraziamo confesercenti confesercenti Fano confesercenti peso l'urbino la proloco di Fano che ci aiuta con le strutture ma soprattutto ci sostiene come associazione e ci da sempre delle belle dritte perché è importante anche quello perché chi ha esperienza poi la mette in gioco anche per gli altri continuiamo a ringraziare i nostri main sponsor che sono la Polo Ristorazione e la Seramax e la MaxiCart che ci hanno sostenuto con il cibo per il cooking show e tutto quello che è il packaging biodegradabile continuiamo a ringraziare Renton perché per noi è importante che è il del posto ma sì assolutamente importante visto che siamo nella regione Marche è per noi importante ringraziare la regione Marche perché anche loro assieme al comune ci hanno sostenuto e ci hanno guidato fino ad arrivare a oggi ma arrivare al 12, al 16. Allora dal 12 al 16 agosto dalle 19? Dalle 18 e 30 in poi. Dalle 18 e 30 in poi la birra d'augusto in questa nuova location io ringrazio l'associazione culturale Fortuna Dea nelle veste del presidente ma del consigliere ma anche di tutti gli altri membri che hanno collaborato e che collaboreranno fisicamente anche in quelle serate Assolutamente sì. Gli invitate voi? Gli amici a casa? Ma sì, noi vi aspettiamo dal 12 al 16 nella zona antistante la Rocca Malatestiana per vivere insieme 5 giorni di birra artigianale, di musica ma assolutamente di puro divertimento, sano divertimento Bene, divertimento di qualità con prodotti di qualità. Non perdetevi la birra d'augusto 2022 Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi Grazie a voi e grazie a Fano TV per averci ospitato anche quest'anno E naturalmente siete tutti invitati, grazie a Riccardo Sora in regia e a tutti voi per averci seguito vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti